Iachimovski, partiamo subito da questa trasferta di Vicenza. Eh sì, andiamo là per dare il nostro massimo, come facciamo ogni giorno su allenamento, perché tutto secondo me parte dall'allenamento, secondo me lavoriamo tutti insieme, lavoriamo tutti i ragazzi bene, forte, è normale che andiamo a prendere il nostro obiettivo, questa è vittoria. Senti, sei soddisfatto della tua singola prestazione o ti aspetti ancora di più? No, guardate, io sempre guardo la squadra perché calcio non è un sport individuale, calcio è un sport per compagni come squadra, abbiamo giocato tutto bene come squadra, questo è importante, per questo abbiamo vinto, se tutti giochiamo individuale, secondo me non possiamo vincere. Che gruppo è questo? Un gruppo ottimo, un gruppo veramente unito, forte, lavoriamo uno per tutti e tutti per uno, questo è importante, anche se vedono i risultati soprattutto. Dove può arrivare questo benevento alla luce dell'attuale classifica? Secondo me, prima dobbiamo guardare 50 punti e dopo questo vediamo, ma dobbiamo essere umili, dobbiamo essere calmi, lavoriamo e facciamo le nostre cose, tutto altro dopo arriva.